Ciao ragazzi, sono Amauris Perez, argento olimpico a Londra 2012 con la Nazionale Panamoto italiana. Sono molto onorato di fare gli auguri ai bambini di formia basket. Ragazzi, giocare è un privilegio, non tutti i bambini nel mondo se lo possono permettere. Quindi tenetevi lo stretto e divertitevi in bocca al lupo.